Una cosa che faccio spesso, a proposito, ciao naturalmente, una cosa che faccio spesso, dicevo, è pubblicare gli annunci di ricerca di personale del ristorante coi quali collaboro. Grazie. Tenete presente che io, qui sul canale YouTube, su cui vedete questo video, se lo state guardando su YouTube, quasi 20.000 iscritti ci sono, non è che guardano tutti i giorni, insomma, gente che mi segue ce n'è. Altri 3.000 sono sulla mia fanpage, su Facebook, 7.000 sono su LinkedIn, quasi un migliaio sono su Instagram, insomma, sono in relazione con un bel po' di persone, molti mi scrivono, con alcuni collaboro, eccetera, eccetera. Quindi questi annunci, il più delle volte, trovano persone. Io faccio gratis. Però c'è un po' di condizioni. Io faccio gratis e non chiedo soldi. Ma io gli annunci li faccio solo per quei ristoranti che assumo o che fanno un contratto. Quindi, mi accerto di questo, nel senso che a volte poi vado a chiedere alle persone che proposte gli sono state fatte. Poi, molti di questi ristoranti in realtà io li conosco bene perché ci collaboro, alcuni li ho avviati io, per cui ovvio che lì ho la certezza. E chi non conosco, qualche domanda la faccio. In sostanza la cosa suona così. Se vedete un annuncio su uno dei miei canali, è un annuncio di cui io ho fatto una verifica. Se invece siete voi ristoratori e siete interessati a cercare del personale, potete farlo gratuitamente o meno, chiedo soldi. Mi piace l'idea che la domanda si incroci con l'offerta, in questo caso di lavoro. Però, parliamo di assunzioni regolari. Che sia contratto, assunzioni a tempo determinato, indeterminato, a chiamata, a quello che volete voi, ma devono essere forme regolari di lavoro. Perché io solo questo voglio nella mia vita e non mi presto ad altre forme. Facile, no? I dati per il contatto sono sempre gli stessi. La defra, chiocciola, frachef.it, se volete scrivere un'email, è 349-2207-339, se invece preferite chiamarmi su WhatsApp. Detto ciò, credo ci sia ben poco d'altro da dire, quindi video corto, 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 corto. Ciao. Grazie. 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 Grazie.